lo fanno solo gli stranieri ma no l'italiano è appassionato della bici e allora perché non sarà anche per viaggiare seguitemi in questa avventura la grecia salentina e vista dalla mia bici nell'attesa del film però mettiti comodo e guarda il video del giro del salento qui trovi il link grazie